I molecolari sono i tamponi che dobbiamo usare per il monitoraggio degli operatori sanitari. Per il resto l'abbiamo fatto sempre, fino a tutto ottobre. Il dottor Vincenzo Pietrantonio, anestesista del 118 dell'Azienda Ospedaliera di Padova, racconta di essere la prova vivente del rischio che si corre a usare i tamponi rapidi per controllare se il personale sanitario è positivo al coronavirus. Oggi, a differenza del lockdown, si adoperano quelli e non i molecolari per lo screening di medici e infermieri. Ma studi affermano che i test rapidi su cui il Veneto ha investito molto possono dare falsi negativi anche in 4 casi su 10. Motivo per cui un mese fa, in una lettera, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico del Veneto chiedevano di tornare ai molecolari per il personale sanitario. Pietrantonio giovedì 3 dicembre risultava negativo al tampone rapido. Il giorno dopo, per un check-up, è stato sottoposto al molecolare. La domenica l'esito, positivo. Nel frattempo era stato al lavoro. Con questo tipo di tampone rapido, siamo in qualche maniera lasciati un po' a noi stessi. La stessa ditta che produce questi tamponi dice che questo tipo di tampone è utile per lo screening delle popolazioni, ma che l'esito negativo non può essere utilizzato come per dire che tu non ce l'hai. Io mi chiedo, se non avessi fatto il molecolare venerdì, io avrei continuato a fare turni in centrale. Quale poteva essere il problema? Creare un focolaio all'interno del reparto? E poi, se crea un focolaio all'interno del reparto, che succede? Grazie. Grazie.